Cari concittadini, una bella notizia. Cari ragazzi, è per voi. Abbiamo deliberato oggi in giunta, su mia proposta, l'istituzione delle borse di studio a favore dei ragazzi che hanno frequentato la scuola elementare e la scuola media qui a Montefredele. Si tratta di 100 euro per i ragazzi della quinta elementare e di 150 per i ragazzi della scuola media. È un impegno che abbiamo mantenuto, l'avevamo detto all'apertura dell'anno scolastico ed oggi l'abbiamo reso possibile. Presto sarà pubblicato il bando sul sito istituzionale del comune a cui voi dovete partecipare. Dopodiché, a termine della presentazione delle domande, organizzeremo una manifestazione pubblica nella quale saranno consegnati i buoni direttamente a voi, cari ragazzi. È una bella iniziativa, è l'iniziativa che premia il merito, che merita quella parte che studia, che approfondisce e che vince le sfide, le sfide della conoscenza. La conoscenza è al primo posto perché dovete essere classe dirigente e portare alto il nome di Montefredele a tutti i livelli. Io mi batterò sempre e comunque per questo e di questa iniziativa voglio ringraziare pubblicamente i colleghi della Giunta e i consiglieri comunali che hanno sostenuto insieme a me la necessità di premiare i ragazzi meritevoli e volenterosi che frequentano la scuola Montefredele. Questi ragazzi sono il nostro orgoglio e per questo l'amministrazione comunale li premia.